Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un funny glitch Per fare questo funny glitch dovete fare il glitch del creatore Quello che si faceva prima Quindi dovete andare in modalità creatore Ma questo fatelo appena avviate il gioco ragazzi Non fatelo uscendo dall'online e andando nella storia Perché vi ricaricherà il prologo e non ve lo lascerà fare Quindi una volta che siete in modalità creatore Andate su ABA, modalità regista come avete appena visto Quando siete in modalità regista selezionate scene Andate in scena 1 Poi tornate in editor rockstar Una volta che siete in editor rockstar dovete ritornare in modalità regista ragazzi Quando siete ritornati in modalità regista Tornate, fate avvia modalità regista nuovamente E quando avete fatto avvia modalità regista Giustamente dovete andare in scene Scegliete scena 1 Scegliete scena 1 ovviamente E quando siete in scena 1 dovete scorrere gli accessori Nella categoria di accessori Fino a che il gioco non si buggerà ragazzi Rimarrà buggato Quando sarete buggati in questa schermata L'unica cosa che dovete fare E dovete tornare in editor rockstar Una volta che siete in editor rockstar Tornati in modalità regista E la schermata rimarrà buggata Andate su una vostra attività recente di un vostro amico insomma E vi unite ragazzi Una volta che vi siete uniti Partirà un caricamento Ovviamente Questo lo dovete schippare Una volta che avete schippato con il cerchio Quel caricamento Che cosa dovete fare Dovete andare in gta Online Vai Andate in gta online Vi partirà questa schermata di caricamento A questo punto ragazzi Dovrete disconnettere internet Dalle vostre impostazioni di rete Andate in impostazioni di rete E disconnettete internet Una volta che avrete disconnesso internet Si creerà il bug ragazzi Quindi adesso Io non ho messo lo screen Però penso che tutti sappiate Come si disconnetta internet Quindi non c'è bisogno che metta Lo screen di come si disconnette internet E una volta che si sarà creato il bug Avrete questa schermata Dovrete accettare il messaggio E vi ricaricherà la storia Allora il bug si bugga in maniera diversa Due volte Allora o vi carica il prologo Anche qui funziona Se vi carica il prologo Basta che cliccate gta online E fate il resto del glitch Insomma Se invece Continua a caricare Vi potrebbe anche caricare L'online direttamente Una volta caricato l'online Dirigetevi in questo punto Che vedete sulla minimappa E salite in alto Con un elicottero ragazzi Vi troverete Questo punto qui in pratica Vi troverete Nell'editor rockstar Un'altra parte di mappa Che non potremmo vedere Senza questo glitch Questo glitch ragazzi Sarà visibile solamente a noi E per tutte le sessioni In cui andremo Se noi porteremo Un nostro amico E atterreremo per esempio Come ho fatto io Dentro questa mini piscina Il nostro amico rimarrà lì Finché ci saremo noi Ma non appena Usciremo da lì Giustamente cadrà nel vuoto E non vedrà nulla Quindi anche il nostro amico Se vorrà vedere questa cosa Dovrà fare il glitch Come lo stiamo facendo noi In maniera tale Che riuscirà a vedere Questo luogo in pratica Ragazzi Per vedere Fin dove potete arrivare Vi consiglio di avere delle bombe Lanciare bombe E vedere Fin dove potete arrivare Quando vedete Che la mina di prossimità O la mina Si appoggia a terra Evidentemente Lì c'è Diciamo Una parte di mappa E quindi potete Camminare In quella zona Detto questo Ragazzi Spero che questo Funny glitch Sia di vostro gradimento E' una cosina Alternativa Al solito video Spero che vi sia piaciuto Un saluto da Maxi Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti